prima abitava in una casetta vicino a una strada maestra all'ingresso del villaggio dopo aver sposato la figlia di un mezz'altro del paese s'era messo a fare il carrajo e siccome lavoravano molto tutti e due riuscirono a raggranellare una piccola fortuna ma una cosa li addolorava enormemente non avevano figli finalmente arrivò un figlio lo chiamarono jean lo coprivano di carezze lo coccolavano gli volevano bene a tal punto da non poter stare un'ora sola senza vederlo aveva cinque anni quando alcuni saltimbanchi passarono per il paese e misero su una baracca sulla piazza del municipio jean che li aveva visti scappò di casa e suo padre dopo averlo cercato a lungo lo ritrovò in mezzo alle capre sapienti e ai cani giocolieri si stava facendo le piumatte risate sulle ginocchia di un vecchio pagliaccio tre giorni dopo all'ora di cena quando stavano per mettersi a tavola il carrajo e la moglie si accorsero che il figlio non era più in casa lo cercarono nel giardino ma non lo trovarono il padre allora uscì sulla strada e si mise a gridare per di fiato calava la sera l'orizzonte si riempiva di un vapore scuro che respingeva le cose in una lontananza cuba spaventosa tre grandi abeti proprio lì vicino pareva che piangessero nessuna voce rispose ma c'erano nell'aria gemiti indistinti il padre stette a lungo in ascolto credendo sempre di udire qualcosa ora a destra ora a sinistra e fuori di sé si sprofondava nella notte chiamando in continuazione jean jean corse così fino all'alba riempendo le tenebre delle sue grida spaventando gli animali randagi straziato da un'orribile angoscia credendo in certi momenti di essere matto la moglie seduta sullo scalino della porta non fece che si inghozzare fino all'alba non ritrovarono il loro bambino invecchiarono rapidamente in una inconsolabile tristezza un giorno vendettero la casa e partirono per cercarlo di persona interrogarono i pastori sui pendii di montagna i venditori ambulanti i contadini nei paesi le autorità nelle città era passato molto tempo da quando il figliuolo era scomparso nessuno sapeva nulla lui stesso doveva aver dimenticato il suo nome e quello del suo paese piangevano ormai senza più speranze presto rimasero senza un soldo e cominciarono a lavorare a giornata nelle fattorie e nelle locande facendo i lavori più umili vivendo degli avanzi altrui dormendo sulla terra nuda e soffrendo il freddo ma a forza di sopportare simili fatiche diventarono tanto deboli che non trovarono più lavoro e furono costretti a chiedere l'elemosina sulle strade si avvicinavano ai passanti col viso triste e con voce supplichevole imploravano un tozzo di pane dai miei titoli riuniti a mangiare intorno a un albero nei campi a mezzogiorno e mangiavano in silenzio seduti sul ciglio di un fossato un giorno un'oste al quale avevano raccontato la loro disgrazia disse ho conosciuto qualcuno che aveva perduto la figlia l'ha ritrovata a Parigi si misero subito in strada per Parigi quando entrarono nella grande città furono spaventati dalla sua immensità e dalla quantità di persone che passava per le strade si resero conto tuttavia che il figlio poteva trovarsi in mezzo a tutta quella gente ma non sapevano come fare a cercarlo avevano anche paura di non riconoscerlo perché erano passati 15 anni dall'ultima volta che l'avevano visto andarono in tutte le piazze, tutte le strade si fermarono a ogni crucicchio sperando in un incontro provvidenziale in un caso fortunato nella pietà del destino spesso camminavano senza meta stretti l'uno contro l'altra e il loro aspetto era così triste e misero che la gente faceva loro l'elemosina senza che chiedessero nulla ogni domenica trascorrevano la giornata alla porta delle chiese guardando entrare e uscire la folla e cercando sui volti una lontana somiglianza più d'una volta credettero di riconoscerlo ma ogni volta era stato uno sbaglio sulla soglia di una chiesa dove si recavano spesso c'era un vecchio che porgeva l'acqua benedetta ai fedeli da tempo era diventato loro amico anche la sua storia era molto triste e la reciproca commiserazione fece nascere tra loro una profonda amicizia finirono con l'andare ad abitare insieme tutti e tre in un povero tugurio all'ultimo piano di un gran casamento molto lontano vicino ai campi e il carraio qualche volta sostituiva in chiesa il suo nuovo amico quando questi era malato ci fu un inverno rigidissimo il povero porgitore di acqua santa morì e il parroco scelse per sostituirlo il carraio del quale conosceva le disgrazie tutte le mattina il vecchio andava a sedersi nello stesso posto nella stessa sedia consumando a forza di strusciarvi la schiena la vecchia colonna di pietra alla quale si appoggiava guardava fisso tutti gli uomini che vedeva entrare e aspettava le domeniche con l'impazienza di un collegiale perché quel giorno la chiesa era sempre piena di gente un vecchio molto sempre più indebolito a causa dell'umidità delle navate e le sue speranze si sbriciolavano di giorno in giorno conosceva ora tutti coloro che venivano alle funzioni conosceva i loro orari le loro abitudini riusciva a distinguerne i passi sul pavimento di pietra la sua esistenza si era talmente ristretta che persino l'ingresso di un estraneo in chiesa rappresentava per lui un avvenimento quel giorno vennero due signore un'anziana l'altra giovane probabilmente erano madre e figlia dietro di loro veniva un bel giovanotto si inchinò all'uscita e dopo aver offerto loro l'acqua benedetta gli adè il braccio alla più anziana deve essere il fidanzato della giovane pensò il carraio e fino a sera cercò nei suoi ricordi dove mai avesse potuto vedere un giovane che somigliasse a quello ma quello che si ricordava doveva essere ormai un vecchio perché gli pareva di averlo conosciuto al paese quando era giovane quell'uomo tornò spesso ad accompagnare le due signore e quella vaga somiglianza lontana ma familiare con qualcuno che conosceva infastidiva talmente il vecchio che un giorno portò con sé sua moglie perché aiutasse la sua memoria indebolita una sera sul calar del giorno entrarono tre sconosciuti quando furono passati il marito chiese allora lo riconosci? la moglie inquieta cercava anche lei di ricordare ad un tratto disse con voce sommessa sì sì ma hai capelli più neri è più alto è più robusto è vestito come un signore eppure è proprio come te quando eri giovane il vecchio sussultò era vero gli somigliava e somigliava anche a suo fratello che era morto e a suo padre che aveva conosciuto ancora giovane erano così commossi che non trovavano nulla da dirsi i tre venivano verso l'uscita e stavano per andar via il giovanetto toccò l'aspersorio col dito allora il vecchio la cui mano tremava talmente da far cadere per terra una pioggia di acqua benedetta esclamò jean il giovane si fermò guardandolo il vecchio ripetè a voce più bassa jean le due donne lo osservavano senza capire il giovane si chinò fin quasi al viso di lui e illuminato da un ricordo d'infanzia rispose papà pierre mamma jean aveva dimenticato tutto il cognome del padre quello del suo paese ma ricordava ancora quelle due parole tante volte ripetute papà pierre mamma jean cadde col viso sulle ginocchia del vecchio e piangeva abbracciando ora il padre ora la madre entrambi soffocati da una gioia smisurata anche le due signore piangevano poiché avevano capito che era accaduto qualcosa di straordinario andarono tutti a casa del giovane che raccontò loro la sua storia era stato rapito dai salti in banchi per tre anni aveva attraversato con loro una quantità di paesi poi la compagnia si era sciolta e una vecchia signora in un castello un giorno aveva dato del denaro per tenere con sé il ragazzo perché le era parso grazioso poiché era intelligente lo aveva mandato a scuola poi in collegio la vecchia signora che non aveva figli gli aveva lasciato il suo patrimonio anche lui aveva cercato i genitori ma poiché ricordava soltanto questi due nomi papà pierre mamma jean non era riuscito a trovarli ora stava per sposarsi presentò loro la sua fidanzata che era molto buona e molto bella quando i due vecchi ebbero a loro volta narrato le loro disgrazie e le loro fatiche lo abbracciarono di nuovo e quella sera stettero alzati fino a tardi senza avere il coraggio di andare a letto per paura che la felicità che da tanto tempo li evitava non li abbandonasse di nuovo durante il sonno ma erano riusciti a vincere la tenacia della sventura e furono felici finché vissero non li abbandonasse di nuovo non li abbandonasse di nuovo non li abbandonasse di nuovo non li abbandonasse di nuovo